Musica Allora, cominciamo, cominciamo subito, non perdiamoci in chiacchiere Cerchiamo subito di iniziare così, magari se... Sicuramente finiamo le partite di dicembre oggi Poi dubito che inizieremo a fare calcio mercato Calcio mercato probabilmente lo lascerò più per la prossima volta Che faremo una live dedicata solo al calcio mercato Perché abbiamo tre partite da fare Mediamente tre partite portano via di solito un'oretta Tra l'altro cominciamo subito col Cittadella Prima in classifica E dicevo, tre partite portano via già da sole Mediamente un'oretta O poco meno Quindi sicuramente faremo queste tre partite Inizieremo sicuramente nel mese di gennaio Però poi per il mercato direi di concentrarci In una live a parte, in un'oretta in cui faremo soltanto calcio mercato Usi le tattiche scaricate, sì sì quale? No, uso la mia tattica fatta da me Basata sulla mia rosa ovviamente Credo poco nelle tattiche... Come si dice? Le tattiche scaricate che date da altri utenti Non perché non funzionino Ma perché è come copiare le impostazioni personalizzate su FIFA Ognuno ha il suo stile di gioco Vabbè, su FIFA vale a maggior ragione perché si gioca Giochiamo noi letteralmente Però anche su Football Manager Il bello, cioè il cuore del gioco È far giocare la propria squadra Metterla bene in campo Creare la propria tattica, eccetera, eccetera, eccetera Se ce lo facciamo fare dagli altri Scaricando le tattiche piuttosto che i moduli personalizzati, eccetera Magari è anche efficace Perché poi sono anche tattiche che funzionano Ed è da vedere comunque Ma che gusto c'è? Cioè è come dare il pad a un altro e farlo giocare a FIFA al posto nostro No, è bello è giocare, è bello è fare la propria tattica Sperando che funzioni E quindi è una cosa che non faccio Buonasera Frollix Allora Perché c'era Mustacchio qui davanti Allora, fatemi vedere un attimino Perché non mi ricordo Ah, Luca Vito torna Mi sa che era squalificato Eh già Ok Dragomir Melchiorri Ecco Settimana scorsa Che ero stato a Perugia Vabbè se mi seguite su Instagram lo sapete Per il Perugia Sports King Tour Parlando con Ruggio Gli dicevo, gli raccontavo che Dragomir non mi rende molto Come trequartista E lui mi ha detto Prova ad invertire Dragomir e Verre Prova a mettere Verre sulla trequarti e Dragomir mezzala Volevo fare questo tentativo Questo esperimento Verre non è proprio il massimo qui, eh Però per una partita io vorrei farlo questo esperimento Dragomir effettivamente gioca bene da mezzala Verre non è proprio il massimo Però proviamo Tanto male non fa Quindi Gion, Beridiamic, Liji, Ngawa Per il resto direi che ci siamo Io però Mustacchio me lo porterei Quanto meno Quindi ce lo portiamo in panchina Ok Tra l'altro non solo inizierà il mercato a gennaio Ma finalmente rientra la squadifica anche AN Cosa molto molto importante Detto ciò Io direi di procedere Dai Confermiamo questa formazione Andiamo così Allora Gli allenamenti come gli imposti Li lascio l'allenatore in seconda? Tendenzialmente sì Li lascio l'allenatore in seconda di base Però poi alcune volte Vado a modificarli secondo le mie esigenze Aspettate Vabbè Lasciamo andare fuori senza dire nulla Ah Ditemi se il volume di gioco è alto Non credo Ma vabbè Io però abbasso subito un po' No Ma forse andava bene Vabbè Ditemi se il volume di gioco è troppo alto Troppo basso Così poi lo regolo Ok E stavo dicendo Ah sì Stavo dicendo che Li lascio di base Fare l'allenatore in seconda Però poi a volte vado a toccare delle cose Per conto mio Ad esempio quando ho messo Mustacchio Che l'allenatore in seconda Me l'aveva messo Che si allenava Per giocare a terzino destro Io invece ho cambiato l'allenamento E gli ho messo l'allenamento Focalizzato sul ruolo di punta Perché voglio farlo giocare anche come punta Intanto qui Eh Tra come subito La conclusione Dopo 8 minuti Però sì Tendenzialmente Gli lascio l'allenatore in seconda Uh Bravo video Dai 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 Abbiamo iniziato bene In questi 11 minuti Un buon Perugia Bravo Raccogli sto pallone Giriamola in porta ragazzi Giriamola in porta Attenzione Fallaccio sui amic Non perdiamola lì Calcio di punizione Buono Anche se in realtà Sui calci pezzali Non andiamo molto forte Però Portiamo subito le modifiche Che ci vengono suggerite Dai dai Eh decisamente un buon Perugia In questo In questo primo quarto d'ora Dai Gli ci tira Tira Vabbè Lavoro Mirko Tutto molto bene Grazie Dicevo prima Parecchio Stancante Ma più che altro In realtà è il traffico Che mi stanca Perché fare ogni volta Tutti i giorni Un'ora e mezza Di traffico Per tornare a casa Dopo un'ora e mezza L'ho fatta anche la mattina Per arrivare al lavoro Quindi complessivamente Stare tre ore al giorno In mezzo al traffico È la cosa più snervante Del mondo E per il resto Tutto molto bene Ghiomber è rimediato una botta Dobbiamo cambiare Ghiomber Mi piace Mi piace l'ambiente Mi trovo bene Per ora Mettiamo Cremonesi Speriamo che Ghiomber Non debba stare fermo Troppo tempo Allora Per il mercato dei genoi Acquistare solo svincolati Dipende Se non cambia qualcosa Sì Non abbiamo soldi al momento Se qualcuno ci dà i soldi Andiamo anche a comprare Vorrei fare anche Del mercato in uscita Vediamo un po' Che occasioni presento Al mercato Però sì Tendenzialmente La mia attenzione È rivolta Agli svincolati A quelli che vanno A parametro zero A fine stagione Intanto Non si sblocca Questo match Perugia nettamente meglio Però Dieci tiri Verso la porta Nei primi 40 minuti Contro la capolista Che è successo qua Pure Ngao Ha preso una botta No Ngao Lo lasciano in campo Ragazzi Sta facendo segno Di poter uscire No No Dai Eh sì Cazzo Ti amo a zocchi Però Cioè Due cambi In 40 minuti No Dai ragazzi Dai Vai Spingi Stiamo dentro Stiamo dentro Stiamo dentro Sto pallone Però ragazzi Su Bravo Verre Va in gawa Niente Portiamo sta modifica Un altro corner Ovviamente un buon Un buonissimo Perugia In questo primo tempo Ciao Ciao Concentrate Ma come incoraggiare I giocatori Alza Il loro morale Rubinacci Ma cosa Non pensate Che il lavoro Sia finito Esatto Non pensate Assolutamente Che il lavoro Sia finito Bene Così Ragazzi Continuiamo Così Mi sto trovando Molto molto bene Al lavoro Grazie Un po' stancante Ma È anche giusto Che sia così Insomma Però No È un bel ambiente Mi stimola Quindi Direi che Tutto bene Ok Filippo Scagli Ha preso una botta Stavolta Il loro Per fortuna Io Non ho neanche Troppo Da dire Alla squadra Per ora Ho solo Il terrore Che il cittadella Poi all'improvviso Se ne esca Con un'azione Vabbè Siamo zitti Va Non succede Più niente Occhio Dai dai Facciamo No No Mazzocchi Sti errori No Recuperate subito Sto pallone Recuperate subito Sto pallone Bravo Melchiorri Bravissimo Andiamo a fare 2-0 Ragazzi Dai Ce la meritiamo Andiamo a fare Sto 2-0 Dai bianco Tira drago Tira drago Tira Tira drago Bravo Bravo Vlad Dai Bene Ancora al 59esimo Siamo No 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 Bravissimo Gabriel Bravissimo Bravissimo Concentratevi Forse Forse Vorrei fare Anche un altro Cambio Ma aspetterei Meglio Mezzala Dragomira Infatti Sto giocando Mezzala Sì Non lo so Cioè Sicuramente Lui gioca meglio Mezzala Che trequartista Però Comunque Bisogna aspettare Nasri Quando Nasri Rientra Giocherà lui A trequartista A quel punto Potremo Arretrare Dragomira Attenzione Tra l'altro Ho avuto Ho avuto Occasione Scorso weekend A Perugia Di commentare La partita Alla playstation A fifa Tra Dragomira E verre Che erano presenti Lì al torneo E Ho avuto il piacere Di commentare Lo scontro a fifa Tra i due Vinto per tre Per quattro a tre Da verre E i supplementari Poi vi pubblicherò Anche qualche foto Su Su instagram Adesso Quando ho un po' di tempo Le recupero Ve le carico Allora Vabbè Adesso Seguiamo la partita In quest'ultimo quarto Dora Poi andiamo a rispondere Alle domande Che vi avete scritto Qualcosina Ciao dei gira Intanto dai ragazzi Facciamo sto gol Dai verde Mettila dentro Dai ragazzi Chiudiamola Bama Zocchi Bello il cross Ragazzi Chiudiamo sta partita Per cortesia Bene così Dai insistiamo Non insistiamo Vai Mazzocchi Bello Machiori ma salti Una volta tanto Tira Tira Mazzocchi Bravo Bravo Dai Però bisogna fare gol Ragazzi Allora Bisogna fare gol E bisogna Vabbè Vabbè Seguiamo ancora Quest'azione Vediamo Se magari Niente Non di testa Non la prendiamo mai Eh Mai drago Comunque si Terrà cominciare Giocando meglio La mezzata Mazzocchi Facciamo così Copriamoci Un po' Ah Giustamente A finire Sostituzione È vero Che ne abbiamo Cambiati due Il primo tempo Dai Mazzocchi Ragazzi Di testa Male Male Fuori video Dentro Bianchimano Allora Non istruzione Avversario Istruzione Squadra Per Per il tempo Sempre Abbassiamo Leggermente Il ritmo E cerchiamo Anche i calci Piazzati Più Disciplina Dai ragazzi Ciao Catoni Adesso vengo A leggervi Cerchiamo Di portarla A casa Dai Alici Chiudi Sta partita Mamma mia Ragazzi Quanto serve Un battito Di punizioni Non so Come ha messo Una slida Dal punto Di vista Delle punizioni Ma sicuramente Penso meglio Di quelli Che abbiamo Noi Ragazzi Serrate Le fila In questi Ultimi Minuti Sasa Basta Basta Spammare Sempre Lo stesso Messaggio Ho già detto Che rispondo Dopo E comunque Nel tuo caso Non lo so Non so Neanche Di cosa Parli Io l'ho detto Mille volte Ho scaricato Il logo Il pack Dei loghi Sarà quello Penso Non ho fatto Nient'altro No 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 Mamma mia Gabriel Mamma mia Gabriel Bravo Gli amic Dai Teniamo su Sto pallone Ragazzi Su Manca un minuto Siamo sopra E manca un minuto Tieni a bianco Perdiamo tempo Facciamo Ma non passa mai Ecco punto Perdiamo tempo Ho detto Non perdiamo il pallone Attenzione Attenzione Mazzocchi Dove vai con quel pallone Madonna ragazzi Sto minuto Dura più nel gioco Che nella realtà Dragomir Ma che cazzo fai Dio mio No No Mamma mia Non male che c'è Gabriel Ragazzi Facciamogli una statua Gabriel Sì 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 Dai Vittoria pesantissima Ma giusta Meritata Contro Contro ogni pronostico Abbiamo battuto Il cittadella Capolista No Che non ci sono Grandi indicazioni Da dare Bella vittoria Ragazzi Bravi Veramente bravi Allora 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 Alexander Termano Minuto Tanti R0 Poi L'hai continuato Dopo live Il mese scorso No Come dicevo Non ho tempo Di fare Vabbè Ovviamente Non c'era ancora Inizio live Intanto Tre giorni Niente di grave Dicevo che non ho tempo Di fare assolutamente niente Purtroppo Da quando ho iniziato a lavorare Quindi Non Cioè io non tocco Videogiochi Da Non toccavo Videogiochi Stasera Da cinque giorni Più o meno Per cui Fa tempo a voi Oggi sono riuscito a respirare Ho registrato il video di FIFA Per domenica E sto Finalmente Gioando un po' FM Quindi non ho meno tanto Purtroppo vorrei tanto Per il tempo Ma Spero più avanti Comunque lo vorrei riprendere Non voglio lasciarlo morire lì Assolutamente Perché quel gioco Mi sembra molto molto interessante Allora Cioè FIFA che sta morendo Sta nuova broma Assurda Senza senso Bravo Catoni Pensa che volevo farci un video Su sta cosa E non è detto che Che non ce lo farò Nei prossimi giorni Credo che tu stia parlando Dei nuovi talenti Futuri Come cazzo si chiamano Non so neanche come si chiamano le carte Comunque Di questi giovani Strapompati Con statistiche assurde Completamente immotivate E senza senso Era in un momento In cui Era in un momento In cui FIFA Mi aveva un po' stancato Sta cosa Proprio Cioè No È proprio ridicola Secondo me Però poi ne parlerò Se ho voglia Ne parlo magari In un video Devo un attimino informarmi Perché non mi sono informato benissimo Su cosa sono ste carte Anche se più o meno Non c'è molto da informarsi Mi sembra abbastanza chiaro Cosa siano Però Se ti riferisci a quello Sono d'accordo Che è abbastanza ridicola Ma una partita in maniera tranquilla Non si può vincere No Mirko A me le cose tranquille Non piacciono Vero pure Che era Comunque la prima in classifica Quindi ci sta Che non si vince Facile Sto seguendo poco Questa carriera Quindi Dove sei Quindi Non sono molto informato Ma perché Nasri non gioca Nasri non gioca Perché è squalificato Fino a gennaio Per Cos'era doping Chiaramente Robby che aveva fatto prima Per cui L'abbiamo acquistato Ma fino al primo gennaio Non può giocare Ho iniziato a carriera Con il Leicester Dopo un mese del gioco Tutti i giocatori Su 21 Mi sono calati di uno Succederà tutto Io solo a me Sto parlando di FIFA È il bug Degli overworld Che hanno introdotto Con la patch Che è uscita qualche settimana fa Quando poi ci fu Quel casino Di tutti i youtuber Che si sono ribellati Intanto sì Giustamente Gabriele Nella squadra della settimana Il nostro Arcangelo Gabriele Tre settimane In stop Per Sgarbi Sì Inbranchi Anari Che ha Per il futuro E mettono Ora le carte Che saranno Fra 5 anni Che cazzata Ragazzi Che cazzata Quanto rido Se poi Sarebbe bello Fra 5 anni Riprendere queste carte E farsi delle grassissime Risate Veramente Non sono più che inventarsi Ciao Ferdix Ti sei perso Una grandissima vittoria Sul Cittadella Capolista Adesso Ci andiamo a giocare Il match Contro il Livorno No Scusate C'è prima Lascoli Non l'avevo visto C'è prima Lascoli Tra l'altro Si gioca Sono tutte partite Che si gioca Una distanza Una distanza Molto ravvicinata Queste Minirus Pi' forte Di Neymar Con 98 In stamina Sì esatto Ma le che stiamo A parlare Noo Cremonesi pure Infortuna Beh Due giorni Sì esatto De Gira È realistico Ma pure Abbastanza Insensato Bergò di punto Alla panchina Del Brescia Quindi Brescia Ha cacciato L'allenatore Che è Corini Che era Corini Inizierei anche Il calciomercato Inizieremo Può darsi Ma non credo Il mercato Vorrei farlo Con calma In un'altra live Perché stasera Penso che Un'oretta La impiegheremo Soltanto per fare Queste tre partite Che mancano A fine stagione E se arrivi Già la seconda Però infatti Siamo già A 20 minuti Live Quindi più o meno Quei tempi Siamo lì Allora Allora Io non so Se lasciare Dragomir e Berre Così Alla fine Ha portato bene Tra virgolette Col Cittadella Io proverò A lasciarli così Anche per questa partita Dai Forse potevo fare Dei cambi Informazione Magari per la forma fisica Però vabbè Allora Spogliatoio Tutto quello Che possiamo Ma sì Lasciamo stare Dai Non diciamo niente Neanche stavolta Ma tu acquisti Stasera Che ti consigliano Loro o no Se me lo scrivi In italiano Ah ok Consigli staff Che ti consigliano Loro o no No Lo staff Me lo scelgo io Ne regalano Uno Subiettivi settimanali Si chiama Leo Di attaccanto 86 Ma possono Tenerselo tranquillamente Ma FM Ci giocavo Sul telefono Ed era uno Se non il migliore Dei giochi Di calcio In circolazione Secondo me Sì Secondo me È di che allunga Il mio gioco Di calcio Purtroppo È manageriale Non è Non si può giocare Cioè Ci fosse un gioco Così profondo In cui si può anche giocare Sarebbe veramente il top Però Questo sì Cioè Vediamo che Come gioco dedicato Al mondo del calcio È sicuramente il migliore Tra l'altro ragazzi Oggi leggevo Stamattina Mentre ero nel traffico Quando andavo al lavoro Leggevo le recensioni Di Ace Combat E sono Sapete Chi mi segue Lo sa Che Era uno dei giochi Che attendevo di più Di questa prima parte Dell'anno E temevo un po' Il flop Intanto ancora Gabriel Che fa un miracolo E Invece delle recensioni Pare che sia uscito fuori Un ottimo gioco Sono contentissimo Lo voglio recuperare Quanto prima Magari poi lo porterò Anche su Twitch Dai ragazzi Ripartiamo però Perché abbiamo cominciato male Vai Verre Dai Dai Valerio Metti in mezzo Vabbè Che skin usi L'avevo già detto L'altra volta Vatti a vedere I vecchi video Perché adesso Non me lo ricordo Comunque le skin Le scarico sempre Da FM Scout Quindi vai su FM Scout C'è la sezione skin E ti scegli Quella che più ti piace Tanto che puoi vedere Da lì Vai Dragomir Uh ragazzi Che gran conclusione Di Dragomir Che colpisce la traversa E termina sul fondo Non ho visto Neanche l'Ascoli Dove si trova In classifica Non c'è niente In questo primo tempo Non so se devo Preoccuparmi oppure no Eccolo No Melchiorri Melchiorri Ma come cazzo fai Ragazzi Ci sono due attaccanti Che sono veramente Due sacchi di piscio Però lasciatemelo Di Perché Melchiorri E video non la mettono Dentro mai Melchiorri c'era un momento Della stagione In cui sembrava Avesse ingranato Invece mo niente Niente La mette sempre fuori Oppure c'entra il portiere Ragazzi Voglio di più Energico Non mi è affatto piaciuta Attacco Mi aspetto che faccio No Potrei dare di più Dai su Vedo che non fai mai live Su Fortnite O non carichi video su YouTube Su questo gioco Ti fa cagare Vero? Sì Molto Veramente tanto È un gioco E l'ho provato Qui non parlo Per Cioè Parlo con convinzione di causa Saiya L'ho provato anche più di una volta È un gioco Di cui non comprendo Proprio il senso Onestamente Comunque Ciò non toglie Che secondo me 8 YouTuber su 10 Lo portano Perché fa Fare soldi Non perché Però vabbè Questa è una mia opinione Dai Verre Oh Eliamic ragazzi Il bomb era Eliamic Il bomb era Eliamic Due gol in due partite Incredibile Da difensore centrale Dai ragazzi Dai Concentrati Concentratevi Facciamone in alto Vai bianco Metti in mezzo sto pallone Vai drago Vai nyukuri Va bene Dai Va bene Va bene Ciao giotto Bravo Verre Bellissimo sto pallone Bengawa Metti Metti No ragazzi Ma lo state vedendo Melchiorri Dentro L'area piccola Non marcato Di destra La mette Sempre alta Basta Mi ha rotto Il cazzo C'è che mi avevo Rotto il cazzo Che è sta roba Lei non ve lo fa Tattiche Fatemi Levare Melchiorri Va Metto Un stacchio Piuttosto Metto Un stacchio E Dobbiamo togli anche Il streamer Che sono Moni Tutti e due Gli cambiamo Tutti e due Dov'è Felicioli Felicioli Non l'ho portato O forse L'ha rotto Molto bene Vabbè Alici non fa cazzate Allora E basta Per il momento Non cambierei Altro Per il momento Non ti voglio più vedere Esatto Cosa è angolo? Sì Dai ragazzi Dai le amiche Facci una doppietta Perché va così lento Non capisco perché va così lento Adesso Io non ho toccato la velocità Andiamo a Alici La mette su punizione Oh Alici Alici Finalmente si sblocca su punizione Una sera Alici Però non so perché va così lento Ma io ho messo così me so La velocità farà le fasi salienti O poi è una più veloce Allora Concentratevi Andiamo a fare un altro cambio Meno male che dei due terzini Ho tolto un Gawa E non Alici E mettiamo dentro Moscati Metterei Il posto di Dragomir Cosa ne pensi di Satika al Perugia? Eh penso che sia un buonissimo acquisto Per il Perugia Perché Satika è un attaccante Molto sottovalutato Secondo me Non è un attaccante Da top serie A È un attaccante Secondo me Da piccola squadra di serie A Ed è un attaccante Che in serie B Invece può fare anche la differenza Credo Sono molto curioso Di vederlo Di vedere quanto sarà utilizzato Poi da Nesta Effettivamente Però Tra me è un ottimo È un ottimo inserimento Nella rosa del Perugia Che cazzo fai Gabriel? Perché devi buttare il pallone così? Sir Giù? Cos'è? Aspettate Mi sono perso gli altri C'è niente Mi sono distratto Abbiamo preso gore Meglio di manco concentrato Poi leggo i commenti Dai ragazzi Dai State calmi State calmi Direi anche di perdere il tempo Abbassiamo il ritmo Cerchiamo i calci piazzati Più disciplina Vai Berre Che cazzo fai? Mazzocchi calmo Calmi ragazzi Non buttiamo via questa partita Gabriel dove vai? Dove? Ok Calmi Solo passaggi sicuri Bravo Ferre Ferre Apri Bravissimo Bianco Vai Mazzocchi Crossa Mazzocchi Dai ragazzi Non si può perdere sto pallone Però Vabbè Rimessa Ma siamo ancora al 75esimo Ma quanto dura? Gioca la corta Mustocchio Non farti tentare Bravo E' buono il cross Ma non c'è nessuno Ma Siamo sempre al 76esimo Ma come cazzo è possibile? Il tempo va così lento Gabriel calmo eh Gabriel calmo Ok Bravissimo Alice che fai? Sei addormentato Alice Andiamo a recuperare sto pallone subito Bravo Va bene anche col fallo Va bene Calmo arbitro Calmo Dacci sto giallo Ok ok Giallo giallo Ammonito Gnukuri Attenzione però Gnukuri eh Attenzione adesso Calmi Che sei già ammoniti qua Facciamo casini Eh questo è fallo suo però Ok Calmo gli amic Gioca la corta Ragazzi ma siamo al 77esimo Sono passati più minuti nella realtà che nel gioco Vabbè ma perché? Ma sarà che magari Forse qua devo fare così Aspetta Andiamo un po' Aspetta un momento Dai Mettile in mezzo ma zocchi Niente Ma una carriera su O FM O FM Immagino sia FM Fino a che anno può arrivare Non lo so Ah Sirgiu Ok come dice Ciccio Gennifer Ok ok Ragazzi siamo ancora al 79esimo Ma che cazzo succede? Ah ma partita Ma chi ha toccato queste cose? Io ho visto Io volevo solo azioni chiave No 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 ragazzi Mostrato un po' di grinta Non si può Sta partita non si può Dai Ma porco il mondo Porco Dai Non ci credo No 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 Cioè non è accettabile ragazzi Perdere una partita 3-2 Erano amici di 2-0 Non è accettabile Fighette del cazzo Eh nervosi Sono pure nervosi quelli dell'ascoli Forza Domanda di più Pippe di merda 96esimo Siamo Vabbè Mamma mia se mi incazzo Mamma mia se mi incazzo Dove state? Venite qua Aggressivo Pippe di merda Se ne vedete le pippe di merda Pippe del cazzo Boh Ma perché Cioè Noi al 72esimo Anzi al 75esimo Vinciamo 2-0 Mi ha perso 3-2 Poi dove sta l'ascoli? Dove sta? Guarda Da che cazzo sta l'ascoli? Sono 14esimi Partita molto equilibrata Da 2-50 La vittoria del Livorno A 2-63 La nostra Non c'è Nuguri Giocherà Quan E vabbè Ci portiamo Ci portiamo Nessun Falasco Ci portiamo Falasco E Felicioli Magari me lo porterei In panca Così come Kingsley Cos'è PRA? Ah I test fisici La prova atletica Ok Allora Io direi di rimettere Dragomir e BR Tanto è l'ultima partita Poi metteremo una strida La prossima In teoria Bianchi in mano Ok La condizione fisica Eh oddio Insomma Vabbè C'è Alici che Non è che sia proprio Potrei mettere Felicioli Vabbè Alici però in forma Lasciamolo giocare E poi casomai lo sostituiamo Primo cambio per lui Intanto non so che è successo Qui mi da Mi sa che mi si è bloccata Allora Intanto facciamo la squadra Andiamo fuori Diciamogli che io oggi Voglio la vittoria Ok Poi diciamo All'attacco che Voglio vedere Cattività di sottoporta E non frega niente Al centrocampo Che mi aspetto Che prenderà il controllo Non frega niente La difesa che voglio Non frega niente A nessuno Ragazzi Che squadra di cani Veramente Dai Eh vedo che stiamo parlando tutto Perché mi stiamo parlando Dalla chat E il counter degli spettatori Però adesso Vi vedo che scrivete Quindi a quanto pare Si è sistemato Dai ragazzi No Sirius Non lo conosco Chi è Fangawa Melchiorri per favore Niente ragazzi Melchiorri Veramente C'ha un problema Di convergenza Di quella capoccia Quadrata Che Incredibile Ok ragazzi Grazie del feedback Non succede niente Scocca la mezz'ora Ma non succede niente Ciao Corey Con il lavoro Tutto molto bene Grazie Un po' stancante Ma So che è la Ottava volta Che lo ripeto Ma giustamente Il buon Corey È arrivato adesso Comunque No Bene Dai Non mi lamento Qui bisognerà già fare Dei cambi Ragazzi Lì c'è stanchissimo Vabbè Aspettiamolo Nel primo primo tempo Nel primo primo tempo Veramente Povero Io però Voglio il più Ragazzi Non Sono ben lungi All'essere felice Per favore Fate qualcosa di più Eri andato off Di nuovo Non capisco Perché sta cosa Eh sì Sta partita Cioè Che facciamo Domanda di più Niente Bravo Amico Ragazzi Spingiamo però Su Bella sta palla Vai Vido Metti le mezze Ciao Siamo al sessantesimo Uh E gli amic Ancora lui Cioè ragazzi Il nostro uomo più pericoloso Da un mese a sta parte E gli amic Il che è tutto dire Facciamo dei cambi Va Allora Mettiamo 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 chi No Vabbè Non ho Aspettiamo Mettere Allora Aspettate Fatemi vedere un attimino Sicuramente Mettiamo Felicioia Al posto di Alice Sicuramente Poi Io metterei Verre E drago Mi sono stanchi Io metterei 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 Moscati Lo mettiamo Al posto di Verre E metterei Pure Kings Del posto Di Juan Vediamo Un po' Bravo Drago Dai Bella Melchiorri Non era male L'idea Non era male L'idea Non era male Per niente No No Mamma mia Ragazzi Ho visto Gabriel Fermo Che se la guardava Oh Però Ho mostrato Un po' Di grinta Su Non fa cliccare Andiamo in Offensiva Perché ragazzi Non si può Vedere In questa partita Mostrate Un po' Di grinta Non perderla Non perderla Non perderla Non perderla Lì Ragazzi Asceleriamo Lo capite che siamo 0-0 Dobbiamo vincerla Visto che avete buttato I punti Nell'ultima partita Dai Ferricioli Vito Ma non è possibile Ha preso il palo Ha preso il palo Era più facile Metterla dentro Che prendere il palo Da lì Mamma mia Io li devo portare Allo psicologo Vito I melchiori Ma che problema C'hanno 82esimo Allora Dai Domanda di più Porca puttana Dai Vito Dai Vito Dai Vito Dai Vito Guardalo Finalmente Li mortacci tua Finalmente Ti è rimagnato Pure questo Mannaggia A te Chi te fa giocao Mamma mia Che ho fatto Che è Sì sì Fai i cambiamenti Mortacci tua No Che fai i cambiamenti Fermi Perdiamo tempo 91esimo No Che offensiva Prudente State concentrati Concentrati Cazzo Mannaggia È finita Direttore Direttore Mamma mia Bravo Chiomber Che hai preso Dai Fischia Sì Paffa Cura Niente Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Vito Assegnato Io non so Che aveva combinato Su quelle azioni Se era mangiato Pure quelle gol E se era mangiato In maniera goffa Se era davanti Al portiere Tiro in un tiro Se era cartocciato Da solo Su se stesso Poi per fortuna In qualche modo L'ha presa E vabbè Ben fatto Mortacci Loro Pensate Se non avessimo Buttato La partita Con L'ascoli Poteva essere Una stiscia Di 3 vittorie Che ci avrebbe Rilanciato Nell'alta Classifica Invece Niente Però Vabbè Comunque Ho provato A fare Il badge Per i sub Poi Dimmi se li Volevo Vedere Sì sì Certo Cadoni Perché No Sì Sono Un'esistenza Ragallo Mazzone Ragalletto Mazzone Eh Lo so Ragazzi Questa Mi è proprio Una spontaneità Dentro Quando ho visto Che si accartocciava Sul pallone All'ottantottesimo Davanti al portiere Ho detto No Cioè No Invece Poi per fortuna L'ha messa dentro Non so neanche come Ma c'è il modo Mi sa che c'è il modo Per vedere i replay Guarda il gol Guarda il gol Ecco Rivediamolo Perché Cioè È stato grottesco Sto gol Rivediamo Dai dai Gran palla Di Melchiorri Guardate il video Guardate che fa Ma che cosa Cioè ma che cosa Ha fatto È scivolato Posso riavvolgere Si può riavvolgere Vabbè Comunque L'avete visto Cioè Si è Si è tipo Accartocciato Sul pallone Senza motivo Senza essere Toccato da nessuno Oh Sono arrivati Un po' Di Di resoconti Su Su Micelize Eh Non sarebbe Manco male Ah Costo zero Però Attenzione Ah Ah Questi Siamo Di Parameter Di zero Tipo Affelai Ragazzi Affelai Sarebbe Estremamente Interessato E sarebbe Ad un alto Livello La serie B Ibrahim Affelai Proprio lui 32N Ormai Eh Pure Micelize Magari Magari Uno che Segna 28 Anni Finalizzazione 12 Neanche Troppo Insomma Però Parametro zero Potrebbe essere Un buon Inserimento Sansone Gianluca Sansone 31N Esperta Ala Però Non mi Sembra Sto per Anche Ecco Ho fatto Vincinare Milos Scrasic Però È una Pippa Immonda Guardate No ragazzi Milos Scrasic Attualmente Ad un livello Alto Nella Lega Pro Ci sono dubbi Cale capacità Di Scrasic Cioè Degaduto La grande Milos Scrasic Guardate che roba Sembrava un Closher Mamma mia Che degrado Pochi c'era Ah Gabriele Marcheggiani Che non Sarebbe male Potenzialmente Però Non è Livelli per Giocare In serie B E poi C'è L'Unico I Servatori Però Di questi Mi intrigava Molto Mi intrigano Molto Micelizze E E A Fellai A Fellai Costa troppo Come stipendio Questo lo vediamo Già da subito Micelizze No E Visto che I nostri attaccanti Sono in grande Crivi Direi che Non c'è male Ci penseremo Poi Nel prossimo Video Quando sistemeremo Un po' Il mercato Andiamo a Fare Unione Con gli Osservatori Chi è questo Lussemburgo 18 anni Vabbè Avvisioniamolo Tanto Male non fa Quindi A prova Poi Fabrizio Formiliano Peniarol 25enne Oddio Non è che Mi sembra Tutta Oddio Media auto È altina Sì Neanche Tanto Però No Vediamo Un attimo Vabbè Eh Bisognare Non Bisogniamo Eh Massimbulka Questo lo conosco Già So già Che è molto Forte Ma ovviamente Non verrà Mai Continua ad osservare Infatti Lo sa Do Osserva Non verrà Mai Bene Baningime Baningime Banchazzo Di leggere Non so Ed è stato Inserito Di lista Prestiti Porca Miseria Ovviamente Non verrebbe Mai Continua D'osservarlo Comunque Oh Zan Seller O Celler Attaccante Che sta facendo un altro benissimo, la prima gare della Roma abilità potenziale non indifferente anche se il costo è stimato pure poi c'è Riccardi che è un altro giovane interessantissimo della Roma, che ha un potenziale enorme ma la Roma non vuole venderlo, giustamente Enrico Baldini dell'Ascoli, 22enne però pure questo, Lega Pro ha un buon potenziale, però insomma continua ad osservare Dejan Kulusevski dell'Atalanta un centrocampista a 18enne che ha addirittura un potenziale che potrebbe essere molto alto eh continua ad osservare Riccardo Sottil, uguale, questo è un altro potenziale fenomeno io questo due è che l'ho già visto l'ho già incontrato in qualche mia vecchia carriera forse però no no bastoni continuiamo ad osservare quanti so quanti ce ne avete ancora? ancora 10 coppola parametro 0 ma anche no il già osservato Davide Mero è stato a pensare di una lista prestiti ma questa è tutta gente che può fare Lega Pro però abbia le pazienza anche questo no Alberto Cerri non sarebbe mica male come ritorno beh proviamo a mandare un osservatore che magari Tibo Van Hacker si sta proponendo alla nostra squadra facciamolo osservare che mi ha metticato un buon giocatore anche sto portiere vai vai osservo osservo ovviamente chissà questi Baben del Sporting Ion anche lui si propone e vabbè osserviamoli questi magari è gente che torna utile di Amancare il Numansia si propone anche lui ma lui non mi sembra una grande cosa insomma McLaughlin del Millwall terzino che si propone per l'avvicinarsi alla scadenza del contratto Zimansky questo l'avevo già visto e infatti continua ad osservare che è molto molto interessante ma non verrà mai abbiamo finito con questi prima di chiudere abbiamo aggiornamento avvio alla dirigenza riassumente dirigenti sono complessivamente molto contenti della maniera in cui gestisci la squadra contenti del possesso palla la critica maggiore invece è la partita persa contro l'Ascoli giustamente un risultato particolarmente imbarazzante che diamo abbia ragione i tifosi nel dire che avremmo dovuto giocarla meglio sono d'accordissimo ovviamente però non stiamo andando male dai le dinamiche di squadra sono queste con il leader bianco molto influente Melchiorri poi Moscati Grunesi Verre e Natri intanto grazie Casionflex per l'hosting questo è l'aggiornamento mensile sulle finanze tutto in rosso praticamente ho compilato un rapporto per un potenziale acquisto da farsi nella prossima finestra di mercato sarebbe pazzini si costa troppo pazzini sarebbe manco male basta ecco basta parametro zero sarebbe ottimo qui vedo che arrivano un sacco di ottimi consigli però andiamo a finire sul cos'è ah vabbè vattene allora andiamo a finire bene molto bene andiamo a finire sul consiglio di mercato li terrei per la prossima volta quindi mi fermerei qua i ruoli che rinforzerei dipendesse da me andiamo un attimino innanzitutto vediamo un attimino poi la classifica perché non l'abbiamo più vista dopo l'ultima vittoria vabbè non cambia molto siamo sempre lì con 29 punti insieme a Salernitana e Carpi c'è un abisso tra noi e il Benevento Palermo cioè siamo tagliati fuori ormai dalla corsa per i quartieri alti della classifica bisogna puntare ai playoff nella maniera più d'inghidosa possibile e madonna ragazzi il Brescia ultimo incredibile dicevo cosa andare a rinforzare forse per me andare a rinforzare sicuramente l'attacco l'attacco da tre quarti adesso vediamo come va con Nasri e probabilmente i difensori centrali forse ma neanche tanto no in realtà andare a rinforzare soprattutto l'attacco l'attacco non mi piace per niente questo tridente qui non mi piace però non dipende da me perché non abbiamo soldi quindi dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo con le opportunità che ci offrirà il mercato cosa di cui però parleremo nella prossima live detto ciò io vi ringrazio per avermi fatto compagnia ragazzi ringrazio anche che hai guardato questa replica su youtube vi ricordo che se volete vedere questi video in live su twitch appunto canale twitch in descrizione iscrizione gratuita ragazzi attivate le notifiche così va arrivata la notifica quando vado in live oppure mi seguite su instagram perché tanto avverto sempre con le instagram stories ricordo a chi guarda su youtube che in descrizione c'è anche il link per best soccer store coupon Xander per 10% di sconto su tute felpe magliette da calcio eccetera tipo questa tuta del Borussia Dortmund e e basta direi che che ci salutiamo qua prossima volta ci concentriamo sul mercato principalmente dei parametri zero quindi lo dico specialmente a chi guarda su youtube lasciatemi nei commenti qualche buon nome a parametro zero da prendere col Perugia però gente realistica non fate nomi altisonanti perché tanto abbiamo finanze veramente ristrette e molti giocatori non sono neanche interessati a venire giocatori di livello per cui fate dei nomi prendibili veramente col Perugia così sappiamo da dove cominciare poi nella prossima live è veramente tutto grazie a tutti ragazzi e buonanotte grazie a tutti